Le vertenze purtroppo sono tantissime e ogni settimana se ne aprono di altre perché abbiamo appunto la vertenza della Enigo e di tutte le società controllate, abbiamo la vertenza della Otefalla dove tutti i lavoratori sono in mobilità e si sta cercando di concretizzare un progetto di rilancio e di investimento sul territorio, ha chiuso la Presider, abbiamo ancora la vertenza drammaticamente aperta della Cartiera Burgo abbiamo problemi seri al centro di ricerca ex Tecnolabs attualmente Intex dove si è in contratti di solidarietà e ci sono persone che non lavorano quasi mai e in più il nostro territorio vive complessivamente un dramma occupazionale perché siamo il territorio che all'interno dell'Abruzzo, dati Istat 2014, ha il più alto tasso di disoccupazione siamo circa al 14%, 13,9% esattamente, a fronte di una media regionale del 12,6% e i dati ci dicono che negli ultimi due anni la provincia dell'Aquila ha perso ben 17.000 posti di lavoro 5.000 nel solo 2014, i dati ufficiali appunto certificano che oltre al settore delle costruzioni dove noi abbiamo un paradosso, perdiamo in due anni circa 4.000 posti di lavoro e se consideriamo che in questo territorio c'è il più grande candiere d'Europa il dato di meno 4.000 riguarda l'intera provincia ovviamente però un paradosso in presenza di un processo come quello della ricostruzione vorrei ricordare che noi siamo stati per molti mesi senza la governance della ricostruzione perché il governo Renzi a questo punto penso di poter affermare scientificamente aveva smantellato la governance della ricostruzione e mi riferisco al trasferimento di Magani al nuovo incarico al dottor Aierli per l'ufficio speciale della ricostruzione al sottosegretario Legnini chiamato ad altro importante incarico istituzionale quindi smantellamento della governance blocco dei processi almeno rispetto alla possibilità di apertura di nuovi cantieri oggi c'è una condizione molto particolare perché diciamo così risolti in queste settimane i problemi legati alla governance con le necessarie nomine effettuate dal governo di concerto con il comune abbiamo però un problema che riguarda le risorse e quando parliamo di risorse io mi riferisco alle disponibilità di cassa perché si fa un gran parlare di stanziamenti di miliardi ma poi ogni settimana il comune dell'Aquila e non solo il comune dell'Aquila deve fare i conti con la mancanza di liquidità e quindi di cassa per poter affidare i contributi per aprire i nuovi cantieri e portare a compimento quelli che si sono aperti questo è un grande problema e deve essere la battaglia di questo territorio io penso però anche dell'intera regione Abruzzo quello delle infiltrazioni purtroppo non è una novità anzi mai è un dato accertato sull'intero territorio nazionale laddove ci sono grandi investimenti pubblici purtroppo prova ad entrare la criminalità organizzata il problema è mettere in campo i necessari interventi di prevenzione quindi sicuramente abbiamo bisogno anche di aggiornamenti dal punto di vista normativo dobbiamo applicare correttamente cosa che non è ancora avvenuta le norme che noi abbiamo devo però aggiungere che la magistratura in questo territorio svolge un ottimo lavoro e quindi attraverso la prefettura la procura della repubblica e gli interventi interdittivi per le imprese in qualche modo colluse sono intervenuti, ci sono stati degli arresti sicuramente appunto bisogna lavorare di più e meglio in termini di prevenzione vorrei ricordare che la procura dell'Aquila ha più volte sollevato anche in incontri con il sindacato il problema anche lì della carenza di personale per poter accelerare e svolgere ancora meglio il lavoro sicuramente greggio che svolge la magistratura in questo territorio grazie a tutti